Qui è in atto un pestaggio da parte di organi legati al Presidente del Consiglio nei confronti Boffo, il direttore del mio giornale Ezio Mauro, Gianfranco Fini, un pestaggio organizzato dove si va a pescare, cercare di pescare particolari imbarazzanti o vergognosi che non ci sono per menare. L'undicesima domanda che io farei al Presidente del Consiglio dopo le dieci che il mio giornale gli rivolge inutilmente da mesi e gli direi, ma signor Presidente del Consiglio qualche giorno fa è stato ipotizzato che lei prendesse contatti con i servizi segreti di un Paese amico ma non alleato per avere delle informazioni supplementari. Lei ha smentito personalmente, attenzione, non attraverso portavoce perché quello sarebbe alto tradimento nel caso di un Presidente del Consiglio. Lei ha smentito, ma è possibile andare avanti in questo modo?